Il calcio è la più grande opera teatrale mai messa in scena. Questa è la nostra scena, il nostro teatro. Io ci sono nato dentro, altri sono arrivati dopo. Ma siamo tutti una cosa sola, una famiglia. E per comprenderlo devi aver passato quello che mi è passato noi. Fatica, tensione, sacrificio. Ma quando arriva il momento giusto e tutto inizia ad andare, non ci sono parole per riscaldare. Ma questa non è finzione. Questa è la vita, la nostra vita. I nostri uomini prendono la palla, danno spettacolo ed entrano nella leggenda. Tutto può sgretolarsi in un istante con un solo tiro. Una sola scelta sbagliata, un solo passo falso. Ma può anche diventare un momento universale e vivere nei nostri cuori per sempre. Ragazzi, che gol di Davide Calabria, che non ci credi. Noi viviamo per questi momenti. Noi siamo questi momenti. E questo è molto più di un gioco. Questo è il calcio. Il Milan passa in vantaggio con Patrick Cutrone. Vido, Vido, in becca. Cutrone ed è 7 a 2. Unidacolo, 5 in 10. 5 in 10, donna, lo vediamo. E' un po' più carato. Con Carboni, Vassallo, Vassallo ed è rete! Sesto gol di Vassallo in campionato. Si leva via anche la bagnetta. Viverà! Sesto gol di Vassallo in campionato. Il passato a학. Sesto gol di Vassallo in campionato. Sesto gol di Vassallo in campionato. Sesto gol potel. S скорее della cosina. S gone sav horizon in campionato.